Ciao, sono Michele Zerogalcare e sto al presidio De Molini, in Val Susa, al ridosso del cantiere che si dovrebbe allargare della TAV. Sto qua perché in teoria questo era il weekend del Festival dell'Alta Felicità saltato per motivi del Covid. Abbiamo deciso di mantenere un incontro con le persone anche per invitare le persone a venire a vedere questo posto qua che è uno dei posti dove la lotta per la difesa di questo territorio che va avanti da più di vent'anni in questo momento ha un ruolo centrale. Io che per esempio a questa lotta sono molto legato da tanti anni, devo dire che vedendo questo spazio qua e vedendo il danno che potrebbe fare un allargamento del cantiere in quest'area qua, devo dire che ha avuto anche su di me, che già ero d'accordo con questa battaglia, un impatto molto forte, nel senso che credo che non ci sia niente di meglio per convincersi dei danni che può fare questa opera che venire a farsi un giro qua. Grazie.